Questo è un video che sto registrando per gli iscritti al canale e per i futuri iscritti. Nella sostanza voglio fare due annunci veloci. Uno è che sto cercando di fare nuovi video per il canale e quindi se sei interessato tieni monitorato il canale perché spero a breve di avere nuovi video. L'altra cosa che ho notato è che molti mi chiedono aiuto attraverso i commenti di YouTube. E in questo caso ti devo segnalare una cosa. Abitualmente non uso quest'account per navigare su YouTube. Ho un account privato quindi abitualmente non vedo i commenti in presa diretta. Quello che ti suggerisco di fare se hai bisogno di una mano è andare invece sul canale Telegram di Avvocati e Mac dove ci sono un tot di colleghi e non perché è anche aperto a chiunque interessato all'utilizzo della tecnologia per scrivere e organizzare la propria attività professionale e non dove puoi trovare innanzitutto aiuto non solo da sottoscritto ma anche da altre persone che sono lì e ci sono sia utenti appunto novizi, chiamiamoli così, sia anche utenti esperti. Quindi ti consiglio di utilizzare il canale di Telegram di Avvocati e Mac dove lo trovi. Nella sostanza lo trovi con dei link che sono presenti sul sito avvocatimac.it quindi ti consiglio di andare a cercare l'articolo nel caso specifico che trovi nella descrizione dove pubblicherò questo video e dove potrai trovare anche un link per accedere al canale Telegram di Avvocati e Mac. L'altra cosa di cui ti volevo parlare è una nuova iniziativa che ho pensato di fare qui su YouTube che si chiamerà Office Hour. Nella sostanza l'idea di fondo da cui mi è venuta l'idea di creare questo nuovo momento diciamo di condivisione è seguendo il proverbio cinese dato a un uomo un pesce e mangerà un giorno, insegnatele a pescare e mangerà tutta la vita. Office Hour è un concetto che diciamo è tipicamente anglosassone l'ho conosciuto per primo da Carl Newport e nella sostanza le Office Hours nel mondo business, chiamiamolo così, anglosassone sono quei momenti in cui appunto il dirigente o comunque una persona che ha delle conoscenze che può condividere e così via è a disposizione degli altri. L'idea quindi mia è quella di fissare due giorni, due giovedì in particolare al mese in cui mi troverete online, sempre reperibile, dove potrai farmi le tue domande e conseguentemente potremo tendenzialmente dialogare assieme e io potrò rispondere, se riuscirò ovviamente, alle tue domande. Inizierò a fare le Office Hour da giovedì 17 novembre spero di riuscire a pubblicare questo video il lunedì prima e grazie al link officehour.avvocati-mac.it potrai anche prenotarti mezz'ora della Office Hour se vorrai dialogare con me e in questo caso ovviamente avremo la possibilità di parlarci e di vederci, tra virgolette, se lo vorrai anche di farmi vedere il tuo computer e quindi cercherò di darti una mano, se riesco, a risolvere il tuo problema informatico. Da ultimo ti segnalo che se ovviamente sei interessato per rimanere in contatto con quello che faccio e con la divulgazione che abitualmente promuovo sia sul sito Avvocati e Mac sia con i video o sia anche con i podcast ti suggerisco di iscriverti alla mia newsletter il cui link trovi ovviamente nella descrizione sempre di questo video ci sentiamo presto